Domenica ragazze ci sarà veramente un bellissimo evento dove porteremo a Pozzo Alto la cultura, la storia, la poesia, la musica, il canto e tante bellissime forme d'arte per fare questo passaggio da lei era oggi attraverso un evento storico molto molto importante per il nostro territorio. Si riferisce all'episodio del 31 agosto 1944. Esatto esatto quindi la battaglia di Pozzo Alto rivisto diciamo in chiave moderna abbiamo coinvolto tante realtà del territorio tra cui anche lo sport con la gymnal che poi sarà una bellissima chicca perché non ve lo dico a voi non ve lo dico perché farà un'esibizione molto molto particolare sempre a tema. Ci sarà la poesia con dei poeti, ci saranno degli artisti, una mostra d'arte, ci sarà una mostra invece storica curata da Lampi con una narrazione storica dello storico Francesco del Bianco. Verranno coinvolti quindi non solo anche come pubblico grandi e piccini e ragazzi perché tra i nostri ospiti abbiamo veramente anche dei musicisti molto molto giovani tra cui una bambina di 12 anni, un ragazzo di 18 o il pianista che Davide Ricci che ne ha sui 24. Quindi come potete vedere è veramente fruibile a tutti noi vi aspettiamo domenica 13 settembre dalle ore 17 con la mostra fotografica dell'Ampi con lo storico dell'Ampi con la mostra degli artisti quindi una mostra d'arte. Alle 18 sempre all'interno del castello di Pozzo Alto invece inizierà veramente tutto lo spettacolo. Videotestimonianza molto importante di alcuni abitanti del luogo quindi di Pozzo Alto raccolto dai consiglieri di quartiere per rivivere insieme e per non dimenticare.